Questa volta, per conoscere il nuovo sindaco di Maisana, bisognerà aspettare addirittura 15 giorni. Nelle elezioni di domenica, che hanno visto sfidarsi il sindaco uscente Egidio Banti con la lista civica Impegno per Maisana e Alberto Figaro della lista civica Risveglio Servizi Manutenzione e Turismo, si è verificato, dopo aver ricontato più volte, un clamoroso pareggio, 193 voti a testa. Una cosa sicuramente curiosa, che difficilmente si verifica, visto che la sezione da scrutinare è una soltanto. Sta di fatto che per scegliere il nuovo primo cittadino del piccolo comune dell'Alta Valdivara, 617 abitanti, 613 gli aventi diritto al voto, si andrà al ballottaggio. Cittadini quindi nuovamente chiamati alle urne tra 15 giorni e a quel punto si saprà se Egidio Banti guiderà il comune per il suo terzo mandato di fila, oppure se il nuovo sindaco sarà Alberto Figaro. In caso di ulteriore parità anche al ballottaggio, sarà elettro più anziano, in questo caso Alberto Figaro.